Emulsificanti, la stessa cosa. Se non c'è gordura, non bisogna niente di emulsificanti, no? Qual è il lavoro di emulsificanti, gente? Emulsificare, che vuol dire questa parola? Vuol dire aggiungere gordura e acqua. Quindi io coloco una cosa che aggiungere gordura e acqua, dove non c'è gordura. Perché? Non lo so. Mi faccio questa domanda. Perché mettere un emulsificante che c'è una funzione, che è quella di aggiungere gordura e acqua, oggi non c'è gordura. Che giunto? Agua e? Non c'è.